un punto per acri il punto a quarto bello il punto a gusto Un punto, per esempio, di un punto forte da inoltre. un punto russo la teoria del massimo sparpagliamento che siete messi d'accordo per dare soddisfazione a tutti un punto antico un punto acri un altro punto portobello la situazione è abbastanza così per il momento non si vedono diciamo che portobello è il titolo dei voti di tanti altri è una volta in mese sono ancora punti punti d'anno tutto ancora aperto due punti antico due punti free time due punti romanesco due punti termo da santa due punti acri due punti free time due punti n'ai cance due punti ampico due punti due punti due punti due punti So che è palpabile il sentimento di questo momento, ma aspettiamo un attimo per allineare la nostra grafica, il beneficio anche di chi ci sta seguendo in fondo. Direi di procedere, penso che adesso riusciranno a terminarsi in breve, per cui magari nel quattro lo faremo in simultaneo. Tre punti, beekeeper. Tre punti, free climbing. Tre punti, romanesco. Tre punti, templo e santo. Tre punti, romanesco. Tre punti, beekeeper. Ancora tre punti, beekeeper. Tre punti, annusca. Tre punti, beekeeper. Tre punti, beekeeper. Tre punti, beekeeper. che ci stanno montando quella volta che stanno inseguendo allora andiamo a vedere come siamo messi andiamo a vedere come siamo messi così e possiamo sapere la taverna la taverna è ancora al palo ed è mai scuro antico ne ha 8 in perno 10 per più traivi due tre ne ha due l'umanese in auto neccar ne ha 5 4 acri un manco polo 5 tempolo del sun buio buio no però dai abbiamo detto prima già una soddisfazione di essere i 15 quindi non cioè stiamo un altro cercando di stromatizzare per riuscire a linearsi quindi non prendetela come una presa in giro ma insomma la soddisfazione di essere i 15 deve essere già grande 12 di Kipe 12 di Kipe 1 in pesci 1 russe e 3 portobello ci siamo leone? bene 4 punti 4 punti 4 punti rumanesco riuscire a 4 punti 4 punti cortobello 4 punti rumanesco 4 punti 4 punti rumanesco 4 punti anti-dora rumanesco 4 punti rumanesco 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 Allora, chi poi ha fatto l'ormanesca? Io. In questo momento sto vincendo l'ormanesca. L'ormanesca, abbiamo già l'ormanesca. Ti sentite tranquillo oppure hai paura perché non possono scendere voti pesanti? Tranquillo che non stai facendo. Tranquillo. Grazie. Rosso 5 punti. Nega 5 punti. Antico 5 punti. Reclimbing 5 punti. Portobello 5 punti. Agri 5 punti. Nega 5 punti. Preclimbing 5 punti. Reclimbing 5 punti. Edvice 5 punti. Beekeeper 5 punti. Adesso testa a testa sempre tra Romaneschi. Comunque sta tenendo. Comunque sta tenendo da voi. E freclimbing. E freclimbing. E freclimbing 5 punti. E freclimbing 5 punti. Antico, sei punti Preclining, sei punti Beekeeper, sei punti Preclining, sei punti Beekeeper, sei punti Beh, questa volta è sempre testa, 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 testa Ci sono gli altri autori, vediamo, per esempio, gli autori su due, quindi Beekeeper Beekeeper, per esempio in sala l'autore di Beekeeper No No Romanesque, l'abbiamo detto Preclining Non c'è Ah, non c'è neanche lui L'Antico c'è Antico c'è Procediamo a quell'ultimo Sette punti Marco Polo 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 Grazie a tutti.